Si è tenuta anche a Trapani la mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del settore agricolo organizzata in tutta Italia da Flai CGL, Fai CISL, Willa Will a sostegno di alcune proposte di modifica al decreto sostegni. Noi siamo qui per ribadire che questa categoria non va assolutamente abbandonata lotteremo finché ce ne sarà bisogno per cambiare le sorti di questo decreto perché siamo convinti che l'agricoltura o l'agroalimentare in generale è un settore portante delle nostre economie soprattutto in questa provincia di Trapani e quindi va tutelato a meglio. I tre segretari generali di Fai, Flai e Willa Trapani, Giovanni Di Dia, Adolfo Scotti e Tommaso Macaddino hanno incontrato il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi. Abbiamo sottolineato anche che assieme all'agricoltura rispetto ai sostegni mancati del governo c'è anche una questione contrattuale che è quella del rinnovo del contratto provinciale del lavoro. Sua eccellenza si è fatta immediatamente disponibile nell'intervenire anche attraverso la situazione di categoria per cercare di accelerare questo processo che continui a portare legalità all'interno del settore agricolo ma soprattutto che metta le aziende allo stesso livello per evitare concorrenza reale fra le aziende che applicano il contratto e quelle che non lo applicano. Alla Prefettura è stata consegnata una cartella, un documento unitario con le richieste tra le quali la garanzia per l'anno 2020 ai fini della tutela assistenziale e previdenziale delle stesse giornate di lavoro svolte nel 2019. L'estensione della Naspi, la disoccupazione, ai dipendenti a tempo indeterminato di imprese cooperative e dei liberi consorsi e l'esigenza di rinnovare rapidamente i contratti provinciali garantendo la legalità del lavoro. Noi con la Prefettura abbiamo più volte fatto anche un tavolo istituito un tavolo per un tavolo di legalità e di contrasto al caporalato e al lavoro nero e anche quest'anno il Prefetto ci ha preannunciato che ci avrebbe convocato a breve per riprendere questo fattore negativo che è una piaga di tutto, non solo del Trapanese ma anche di gran parte di dove si svolge attività agricola.